Bene, allora adesso tutto il mondo è diventato ecologista, giustamente. Tutti si sono accorti che se continuiamo in questa direzione il mondo verrà irrimedialmente distrutto. E' un movimento di Gertrude e tutti quanti che spingono a finire che sia un mondo più verde, più che verde, meno invasivo. Ma noi già 30 anni fa l'avevamo detto che il mondo sarebbe finito una merda e che sarebbe finito tutto semplicemente nel 2100. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.